L'annuncio internazionale aveva preceduto il fotokina, ma ora la Pentax KM viene ufficializzata anche in Italia, dove sarà disponibile al pubblico a un prezzo inferiore ai 500 euro del kit con obiettivo 1855. Si tratta della prima reflex entry level di casa Pentax, che fino ad ora si era concentrata su prodotti di fascia leggermente più alta, trascurando le reflex primo prezzo. L'abbiamo incontrata al fotokina, dove l'abbiamo messa a confronto con la Pentax K200D, fino ad oggi il modello di attacco della gamma Pentax. La KM nasce proprio da una costola della K200D, semplificandone i comandi e racchiudendo il cuore della fotocamera, un sensore CCD da 10,2 megapixel, in un corpo più piccolo e più leggero, per l'impiego di molta più plastica. Non mancano però il sistema Dust Removal per l'eliminazione della polvere e lo Shake Reduction che compensa le vibrazioni della mano con lo spostamento del sensore. Più semplice è l'Autofocus, che ora lavora con soli 5 sensori a croce. Invariato il display da 2,7 pollici sul retro, con 230.000 punti di risoluzione, mentre scompare il display LCD monocromatico sulla spalla. Rispetto alla K200D aumenta la sensibilità a disposizione del fotografo, con un massimo di 3200 ISO. In generale si nota la mancanza di alcuni comandi diretti, accessibili ora via menu, ritenuti superflui e fonte di complicazione per i fotografi meno esperti. Due, i kit a disposizione degli utenti. Pentax KM obiettivo 1855 a 499 euro. Corpo e due obiettivi 1855 e 50200 a 599 euro.